Amici del vero milanista, bentornati all'appuntamento con Tutto Milan. E' iniziata ieri a Milanello la preparazione dei ragazzi di Inzaghi, in vista del match di domenica contro il Sassuolo, lunch match della 35esima giornata di Serie A. Si rivede in gruppo Stefano El Ceraui, dopo diversi mesi di assenza. Il faraone, come spiegato in esclusiva da il vero milanista qualche mese fa, rientrerà in campo in queste settimane e proprio al MAPEI Stadium potrebbe essere l'occasione giusta. Salvatore Bocchetti è il protagonista di ieri dell'intervista quotidiana ai microfoni della TV ufficiale Milan Channel. Abbiamo creato molto di più della Roma e abbiamo ottenuto una bella vittoria che ci serviva e che volevamo, ha dichiarato il difensore ex Spartak Mosca. Abbiamo 9 punti a disposizione e dobbiamo conquistarli per provare a cambiare l'esito della stagione. Il Sassuolo è un avversario ostico, dovremo dare il massimo per fare risultato. Brutte notizie nuovamente dall'infermeria. Mattia Di Sciglio è costretta a fermarsi per una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento. Infortunio, quello di Mattia, che sarà valutato e approfondito al meglio nelle prossime ore per poter dare un quadro preciso della situazione. È possibile che la stagione del numero 2 cresciuto nelle giovanili rossoniere sia finita con tre turni d'anticipo e non sarebbe una brutta notizia. Chiudere al minimo per poi ripartire al meglio a luglio, quando inizierà una stagione nella quale riscattarsi da questa decisamente sottotono. Chiudiamo col capitolo mercato. Robinho ha rescisso il contratto con il Milan che sarebbe scaduto a giugno 2016. Il fantasista brasiliano è in prestito della scorsa estate al Santos, dove ha fatto e sta facendo bene tanto da riconquistarsi la maglia verde oro della Selesao in vista della Coppa America Cilena. L'agente Marina Ramos ha confermato che dal 1 luglio Bigno sarà libero e potrà scegliere il suo futuro in tranquillità. Il Santos prova a tenerselo, ma O'Rei della pedalada ha diverse offerte, anche in Europa. Anche per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e restate aggiornati sulle pagine del vero milanista. Appuntamento alla prossima settimana con tutto Milan. Grazie.